Ancora una volta un'edizione straordinaria della corsa di San Martino, corsa internazionale qui a controguerra nel Terramano 4.000 partecipanti, 2.500 alla non competitiva denominata Mangialonga perché i ristori sono tutti mangerecci e 1.500 alla gara competitiva, gara competitiva che tra gli uomini ha visto successi africani mentre tra le donne c'è stata una bella sorpresa. A livello maschile ha vinto Joash Kip Ruto Koic, Keniano in 45-19 il secondo è un marocchino Younes Zituni 46-09, terzo ancora marocco Isham Bufars 46-24 quarto Kenya Erastus Kip Korir Circir in 47-16, al quinto posto marocco Yassine Kaburi 47-28 poi al sesto posto ancora marocco Youssef Aish 48-28 settimo il primo italiano Stefano Massimi della Sef Stamura di Ancona 48-53 all'ottava piazza Mohamed Lamiri, Usa Runner Savezzano, nono posto per Alberico Di Cecco Vini Fantini, decimo Francesco Raia della Newcastle bella sorpresa al femminile, non è caduto il record, non è caduto neanche tra gli uomini ma è straordinario vedere una over 40 decisamente come Marcella Mancini vincere per la sesta volta qui a controguerra battendo una concorrenza di valore internazionale Marcella Mancini ha concluso in 56-22, seconda piazza Kenya, Wakaburut Celangat in 56-45 terza Marocco, aveva già vinto a controguerra Janat Anane 57-03 poi quarta piazza per Gloria Ciccotelli e quinta piazza per Gloria Lufrano entrambe runner schieti